... Avete vinto un incontro qui difficilissimo gli ultimi minuti, gli ultimi venti minuti in dieci Sì, come infatti la partita poi si è messa un po' maluccio per il Rosarno perché un nostro giocatore è stato espulso che ha fatto un fallo su un altro giocatore e ha fatto giustamente il reggito, giustamente l'albato l'ha buttato fuori però è stata una bella partita combattuta fino alla fine non ci hanno lasciato nulla di regalo a Vallo Greganico io ringrazio tutti anche qua dalla squadra Vallo Greganico che si sono comportate benissimo è stato uno scontro fino all'ultimo minuto ben giocato da tutte le due squadre anche che noi avevamo delle essenze come Rocco Galate, La Scala e Frisina abbiamo tenuto il campo bene il mister ha messo una squadra anche di giovani infatti abbiamo molti under che sono scesi pure in campo e quindi questa vittoria è stata sofferta però queste sono le vittorie più belle che ci sono nel campionato che stiamo proseguendo noi stiamo tentando veramente per il secondo posto come le altre squadre c'è la Propelloro c'è pure il San Gaetano che stanno lottando a fare questi playoff in casa noi fino alla fine diamo proprio il massimo tranquillamente con i calciatori, la società e il mister di portare questo progetto avanti che abbiamo di una squadra giovane e siamo partite da 3-4 anni i commenti sono tutti favorevoli al Borgo Crecanico che esce ingiustamente diciamo noi e questa è la nostra opinione non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluto per dogma avrebbe meritato sicuramente il pareggio Antonio Cormaci sì diciamo che affrontavamo una delle squadre le più forti del campionato come la classifica non so quanti punti di differenza ci sono tra noi e loro nel campo non li ho visti come onestamente nemmeno all'andata pur avendo perso 5-1 avevamo disputato una buona prestazione avevamo preso i gol però in modo gratuito ma oggi posso rimproverare davvero poco alla squadra per tutto quello che hanno dato per quanto ci hanno tenuto e per come hanno giocato poi un po' di fortuna ci vuole un po' di pizzico oltre che di fortuna di bravura in più ci vuole noi abbiamo sfilato ripotutamente il gol perdiamo per un rigore non lo so come l'avete visto voi ma abbastanza dubbio sicuramente se loro non passano in vantaggio con il rigore noi facciamo quella prestazione con un po' di fortuna possiamo pure ambire a prendere tre punti purtroppo non è così purtroppo dobbiamo ancora lottare anche perché più tempo passa meno punti facciamo la situazione può diventare pericolosa non vedo perché dobbiamo soffrire fino alla fine dobbiamo riuscire a fare questi punti che mancano tre o quattro punti eh tre o quattro punti però li dobbiamo fare assolutamente grazie a tutti Grazie per la visione!